Il 21-12-2012, nel giorno della rinascita, abbiamo risposto all'appello di Michelangelo Pistoletto. È nato il SUSA, sentiero umano di solidarietà artistica e ambientale. Un sentiero di mani unite, da Piazza Castello a Torino, al Castello di Adelaide a SUSA. Abbiamo chiesto, vieni anche tu, vieni come sei. Come sei? Come sei? Come sei? Come sei? Alle 12.21 avete risposto in 50.000, eravamo 50.000. 100.000 mani si sono unite a formare un'opera d'arte collettiva lunga 54 km, in nome della solidarietà e dell'ambiente. Collegandoci idealmente ai 37 paesi del mondo che hanno partecipato al Rebirth Day, Come sei? Come sei? Come sei? Come sei? Come sei? come sei? La volta in tutto, 보이는 fuori le piace sulla zaina northwesternà Globalumbrewaldantes. There è una vera, che siamo laWebria pienだ, che ci sono il平中, che ci sono il grease, che ci stanno l'ac 125 nextolino, che ci sono le promesso, è una prima prima possibile? Che siamo la propria, è una prima prima possibile. Una perfetta scusa per sentirci ancora vivi E sapere che il nostro sforzo è necessario Che siamo come il fuoco di una ricca memoria Che siamo come l'acqua di un fiume in piena Che siamo la promessa di un domani migliore Abbiamo chiesto, vieni anche tu, vieni come sei Come sei? 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 Grazie a tutti.